Un saluto e bentrovati alla voce delle istituzioni, ospite in studio quest'oggi Maria Agostina Campagna che è la presidente di Antenna Anziani Belluno, grazie per essere qui. Grazie a voi. Iniziamo subito con una specie di riassunto per chi non conoscesse questa associazione in merito proprio alle vostre attività. Cosa fate? Lo spiega così i nostri telespettatori. Certo, noi come associazione, la nostra è un'associazione Onlus, siamo nati nel 2005, proprio come una richiesta del territorio attraverso la voce di una mia amica che lavorava al CSV e alla quale pervenivano richieste di aiuto da parte delle persone anziane per compagnia, per essere accompagnati a fare delle piccole spese, per andare dal dottore, eccetera. Nel territorio non c'era una risposta in questo senso, allora lei mi sollecitò, mi disse dai facciamo qualcosa e nacque questa associazione Antenna Anziani, il nome suggerito dal nostro ex parroco Monsignor Rinaldo Sommacal, il quale disse voi dovete essere come delle antenne che captate i bisogni del territorio relativi agli anziani. Iniziamo questa, fondiamo appunto questa associazione che ha ottenuto quasi subito il riconoscimento come Onlus e abbiamo iniziato l'attività sul territorio. Iniziando prima proprio dalla, praticamente dalla nostra parrocchia, telefonando agli anziani di cui il parroco ci aveva fornito un elenco oltre una certa età, per chiedere appunto se avevano bisogno di aiuto, di essere di qualunque cosa e all'inizio abbiamo incontrato qualche diffidenza perché pareva strano che qualcuno del tutto gratuitamente andasse a fare questo o quest'altro. Poi invece ci si è aperti e noi ci siamo allargati a tutto il territorio di Belluno e gli iniziali volontari sono stati subito, si sono aggiunti a questi iniziali volontari tanti altri volontari e abbiamo iniziato la nostra attività. Ovviamente abbiamo fatto anche dei corsi di preparazione e abbiamo cominciato. Poi progressivamente ci siamo allargati, nel senso che abbiamo iniziato anche facendo una convenzione e l'attività in casa di riposo, per attività ricreative, imboccare, accompagnare in ospedale, eccetera. Poi abbiamo anche iniziato a svolgere delle attività di tipo ricreativo e culturale, ricreativo nel senso di gite, pranzi sociali, eccetera, che creavano proprio un po' lo spirito dell'associazione, univano e soprattutto agli anziani facevano sempre molto piacere. E poi attività di tipo culturale, mostre, concerti, conferenze, sempre su questo tema, cercando soprattutto con le mostre di recuperare quella che era la cultura della quotidianità delle persone anziane. Quindi abbiamo fatto abiti e biancheria di un tempo, i giocattoli di una volta, i barotti, il tema sui barotti, gli anni Sessanta e così via. E loro collaboravano molto volentieri portandoci materiale, eccetera. E devo dire che queste mostre abbiamo cercato di farle all'ITI, soprattutto, per creare un collegamento con i giovani, per far conoscere ai ragazzi quella proprio che era la cultura dei loro nonni. E tra le attività di divulgazione c'è un'iniziativa che è avvenuta nei mesi scorsi, un convegno sulla sanità mentale, ce ne parla? Sì, è stato un convegno che abbiamo preparato a lungo, ma del quale sentivamo proprio il bisogno, anche perché questo è un tema che a noi interessa molto. È vero che noi ci chiamiamo antenne anziani e che il nostro obiettivo primario è quello di migliorare la qualità della vita delle persone anziane in tutti i modi, ma il nostro statuto prevede l'impegno anche verso altre aree di fragilità. In questo periodo, con il Covid, abbiamo individuato come area estremamente bisognosa di un intervento che se ne parlasse, proprio quella dei giovani. Ci siamo agganciati alla ricerca che aveva fatto il professor Chemello attraverso un questionario nelle scuole, dal quale erano emerse proprio tante problematiche e poi abbiamo approfondito, anche oltre all'esposizione del professor Chemello, altri esperti, psichiatri, eccetera, che hanno fatto un affresco proprio del problema, dei problemi che purtroppo ci sono tra i giovani. Questo convegno si è svolto qui al Giovanni XXIII. Il 13 di aprile ha smosso un po' le acque su un tema del quale bisogna sempre comunque parlare, ha avuto successo, ha suscitato discussioni, dibattiti, eccetera. Entrando così un po' nel merito, quali sono le principali problematiche emerse anche durante questa ricerca che affliggono i giovani? Ebbè, sono sicuramente le dipendenze, quelle ci sono sia dall'alcol che da altre sostanze, poi il bullismo, disturbi di tipo alimentare, quindi tutta una serie, e ovviamente poi si può arrivare anche alla patologia psichiatrica vera e propria, perché tutti questi disturbi possono poi regredire, naturalmente supportato ed aiutato, il ragazzo può superare queste difficoltà, ma a volte sfociano in una malattia vera e propria ed è qui che ci sono anche grosse difficoltà proprio nell'aiutarli. E tra le vostre richieste infatti c'è la costruzione di una speciale, chiamiamola casa di cura, forse impropriamente, ma un luogo dove i giovani afflitti da questa patologia possono andare. Esatto, perché noi intanto speriamo sempre che quando un ragazzo e la famiglia si trovano ad affrontare questa difficoltà abbiano un approccio positivo, già la cosa di per sé è ovvio che è drammatica, però che abbiano di fronte delle persone, dei medici, operatori, eccetera, che sappiano dare speranza, perché le ragioni della speranza, come dice il dottor Tibaldi, uno psichiatra di Modena, ci sono, quindi supportati ed aiutati adeguatamente riescono a guarire, a migliorare comunque notevolmente e a poter condurre una vita normale senza lo stigma pesante, pesantissimo della malattia mentale. E quindi noi chiederemo anche che quando appunto, come può capitare, c'è necessità di un ricovero in ospedale, non siano messi nel reparto dove ci sono adulti o anziani con già delle patologie evidenti che possono veramente turbare ulteriormente il ragazzo in difficoltà, spesso si tratta anche di persone di 16 anni, 15-16 anni e quindi togliere proprio la speranza e far vedere se stesso come in uno specchio in qualche modo e quindi la necessità di un luogo, anche un appartamento, un qualcosa, dove il ragazzo possa stare in un ambiente più normale, ecco, diciamo, dove possa, che ne so, ascoltare la musica, usare il computer, ricevere i familiari con più libertà e soprattutto appunto con comfort e un ambiente diverso, questo sì, sarebbe molto importante. Cambiamo argomento, siamo in un anno speciale per Dino Buzzati, su questo voi siete sul pezzo. Sì, perché sempre con un filo rosso che collega le cose abbiamo fatto una, cioè non io, Giovanni Grazioli, direttore della biblioteca, ha fatto una conferenza che abbiamo fatto giù, che abbiamo ottenuto nell'aula magna del seminario, sempre sul tema della salute mentale, nel senso che Buzzati ha collaborato negli anni 60 come per una mostra che era stata fatta a Verona e poi mi pare ripetuta anche a Roma, una mostra nella quale erano stati esposti dei quadri fatti da persone ricoverate nell'ospedale psichiatrico di Verona. Una mostra finanziata ed anche, diciamo, stimolata da un ufficiale, mi pare scozzese, che era venuto in Italia, aveva sposato una signora italiana e un giorno andando proprio in ospedale aveva visto questi disegni, questi quadri, aveva pensato proprio di fare questa mostra e Dino Buzzati ha collaborato con lui facendo un commento, la prefazione, al testo che accompagnava la mostra perché lui è sempre stato un po' interessato a questo tema. Difatti, guardando anche i suoi quadri, lui ha detto che ha tratto anche un po' ispirazione da quadri di queste persone e quindi in occasione del 50 anni della sua morte abbiamo voluto ricordare questo aspetto particolare di lui. E seguendo dunque il filo di questa tematica veniamo alla presentazione di un libro che c'è stato che si chiama Per sempre altrove. Per sempre altrove, sì. E questa è la storia di una ragazza emigrata in Svizzera, mentre qui viene colpita anche lei da una malattia mentale e viene praticamente rispedita a casa, torna nel suo paese incomelico e lì vive un po' tutta la sua vita. Però è una descrizione non solo dei disagi, delle difficoltà di questa ragazza, della sua malattia ma anche un affresco un po' di tutto l'ambiente, di tutto il paese che può essere simile a quello di tanti altri paesi di montagna in cui ci sono tutte le difficoltà, la povertà, l'emigrazione, di tutto, ma c'è anche una grande coesione sociale, una grande solidarietà tra amici, vicini, eccetera, che aiuta anche questa famiglia a supportare la ragazza. Quindi difficoltà ma anche valori molto positivi. Veniamo al presente, passate insomma tutte le restrizioni da Covid che hanno fatto poi diventare un po' matti anche noi, mi perdoni la battuta, sono ripartiti gli incontri di gruppo. Noi comunque non abbiamo mai abbandonato nel corso anche degli anni del Covid gli anziani, nel senso che li abbiamo sempre monitorati attraverso telefonate, soprattutto quelli che sapevamo soli e abbiamo sempre fatto arrivare a loro le cose essenziali come cibi, medicine e qualche necessità legata a un discorso di tipo sanitario, eccetera. Però diciamo che sabato 23 luglio riapriamo alla grande, perché facciamo presso la casetta della Pantera Rosa di Visome una, no grigliata, come si chiama? Uno spiedo. Ok. Facciamo uno spiedo. Il classico. Il classico spiedo. E abbiamo diramato gli inviti e hanno risposto, ora siamo quasi oltre il limite possibile e tutti hanno accolto con gioia questo momento che non è solo per mangiare quello che ci sarà, sicuramente molto buono, ma proprio per stare insieme, per scambiarsi, per rivedersi anche a volte. E dopo questo, dopo di questo, pensiamo di riflettere, proprio di riprendere magari in autunno a fare gli incontri dei gruppi a Navienna a fare delle attività, per esempio la ginnastica che alle persone anziane piaceva moltissimo e continueremo così, insomma. Un'associazione mi anticipava prima sempre in crescita. Sì, è un'associazione, guardi, che veramente abbiamo avuto qualche momento di stasi, ma non di diminuzione, ma adesso decisamente in crescita. Forse perché il periodo proprio del Covid ha indotto molti a riflettere e soprattutto le situazioni che si sono create nelle case di riposo hanno veramente emozionato e commosso le persone, qualcuno ha perso magari i genitori e quindi nasce un impegno, un desiderio di impegnarsi proprio per le persone anziane e in casa di riposo. Per cui abbiamo avuto un incremento di iscritti e soprattutto anche di persone giovani ancora, quindi che lavorano magari, ma che offrono il loro tempo e la loro disponibilità per stare accanto agli anziani. Siamo quasi in chiusura, abbiamo però il tempo di parlare brevemente di alcuni eventi futuri, il programma, per i prossimi mesi. Sì, intanto va bene di continuare. Intanto noi stiamo collaborando per un progetto con l'ULS e il Comitato d'Intesa per un corso che dovrebbe iniziare in ottobre, rivolto alle persone non proprio di grande età, che vanno appena adesso in pensione, per cercare di mantenere uno stile di vita adeguato che consenta di avere una vita buona, anzi ottima. Quindi si tratterà di una serie di incontri in tutto il territorio dell'ULS, quindi tutta la provincia di Belluno, con centralità ovviamente a Belluno. L'ULS mette in campo i suoi specialisti e il Comitato d'Intesa curerà tutta la parte organizzativa e noi come associazione cureremo un pochino l'organizzazione, l'accoglienza, diffonderemo questa informazione a tutti affinché molti possano partecipare. Si parlerà di buona alimentazione, di esercizio fisico, di attività di tipo cognitivo, eccetera. Questo è importante, è un impegno per noi molto importante. Abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, io ringrazio ancora Maria Agostina Campagna dell'Associazione Antenna Anziani, grazie, è sempre un piacere. Grazie a voi. Grazie a voi da casa per averci seguito, arrivederci. Arrivederci. Grazie a voi.